S.N.S.I. sta per Scuba Nitro Safety International. A dispetto del nome anglofono, S.N.S.I. è un'agenzia didattica fondata in Italia e il suo sistema didattico e relativo materiale è stato originariamente creato in lingua italiana. L'agenzia didattica è caratterizzata da una particolare dinamicità e flessibilità e questo ci permette di seguire in maniera agevole tutte le innovazioni tecnologiche che il settore porta e adattarci semplicemente a quelle che sono le esigenze del mercato, quindi adottare quei cambiamenti necessari a fornire all'istruttore il servizio migliore possibile. L'istruttore che per noi rappresenta l'anello più importante nella catena dell'industria subacquea perché è lui che conduce l'individuo alla scoperta di questa splendida attività. Una particolarità che ci caratterizza è la nostra identificazione in quello che è S.N.S.I. Family perché il nostro modo di rapportarci e di fornire il servizio all'istruttore non è un modo solamente ed esclusivamente commerciale ma è anche una funzione di supporto e di aiuto per mandare l'istruttore nella giusta direzione per il suo successo. Tant'è che siamo convinti che un subacqueo S.N.S.I. è un subacqueo per sempre e quindi il nostro motto è Dive Up Your Life. S.N.S.I. 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 Grazie.